Paura che qualcuno l'abbia detto meglio o prima di te, esperimento settimanale. Buongiorno e bentornati al caffettino, ultima puntata con le paure di esporsi, tratto da un articolo di Riccardo Scandellari, medium.com slash scande. Oggi parliamo della paura che qualcuno l'abbia già detto prima o meglio di te. L'abbia già detto in un post, in un podcast, in un video. Il contenuto o l'opinione o quello che hai da dire, che hai da raccontare. Bene, qualcuno l'ha già detto prima di te. Io direi che si può al 99,99% dire che probabilmente, qualcuno l'ha già detto prima di te, viviamo in un villaggio globale, viviamo in un mondo in cui tutti siamo iperconnessi e quindi è chiaro, c'è la possibilità che qualcuno sia svegliato prima di te e l'abbia raccontato, che l'abbia fatto meglio di te, se sei all'inizio, se sei un amatore professionista, chiamiamolo così, come noi, è molto probabile, perché chiaramente là fuori ci sono professionisti, aziende che raccontano, che scrivono, che hanno autori. Bene, insomma, la certezza che qualcuno l'abbia fatto prima e meglio di te è ormai, diciamo così, normale. Va detto che però non è una gara, non è chi lo scrive prima o lo dice prima o lo fa prima, ma è un impegno, è un, come dire, la creazione di contenuti è stare insieme con la propria community, è un impegno nel trasferire informazioni ed emozioni, come racconta l'articolo di Riccardo. Bene, anche se la tecnica narrativa, anche se è quella che è, diciamo, la qualità del tuo racconto, non è perfetta, non vuol dire che dirlo dopo sia negativo. Anzi, tante volte è positivo prendere spunto, prendete in questo caso, no? In cui Riccardo ha fatto un bel articolo, veloce, breve, fattivo, ecco, in questo momento avrei potuto dire no, caspita, non ho fatto anch'io un articolo di... No, anzi, è positivo, perché io lo posso citare, posso argomentare a mia volta, posso dire le cose in cui sono d'accordo e quelle in cui sono in disaccordo, in questo caso nessuna, ma potrebbe essere funzionale anche prendere, come dire, opinioni, articoli, blog e scriverci la nostra opinione. Non è detto, non è una gara, lo ripeto, non dobbiamo arrivare primi da nessuna parte, è la nostra abilità comunicativa che pian piano, o di narrazione che piano piano deve migliorare a darci, a supportarci. Prendete i grandi giornalisti, no? Non fanno quelli che costruiscono le breaking news, gli ansa, non fanno quel lavoro lì, ma arrivano dopo, dopo aver approfondito, arrivano più tardi, magari lo dicono anche peggio, ma approfondiscono meglio quel contenuto e fanno sì che il loro approfondimento sia quello che, dopo la valanga di, come dire, breaking news che vediamo su tutti i social, bene, arriva il punto di, arriva l'opinione di, arriva il momento della chiarezza e quindi tante volte arrivare dopo, secondo me, è molto interessante. Io faccio così con le news americane, su The Verge e le altre mie fonti, non voglio arrivare primo rispetto a tutti gli italiani, ma leggo, ascolto quello che accade negli Stati Uniti, lo faccio mio e magari, insomma, il giorno dopo alle 7.30, come sempre, lo trovate nel caffettino. E si conclude questa settimana di esperimenti, questa settimana particolare per le paure di esporsi, ma torniamo lunedì alle ore 7.30 sul podcast del caffettino o sul canale telegram Mario Moroni Canale. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate le verdure che ci sentiamo lunedì. Fate i bravi, ciao.